Buonasera. Asaf Gavron. La mia storia e la tua storia. Bel libro. Asaf Gavron è un rappresentante di questa nuova onda di autori, scrittori israeliani. È stato tradotto anche molto in Italia. Questo è un libro, uno dei primi libri che ha scritto nel 2006. Ha scritto La collina, un bellissimo libro, Idromania, che stranamente non mi è piaciuto. Le 18 frustate, altro bellissimo libro che ho recensito in questo canale. Adesso parliamo di questo. La mia storia e la tua storia. Pubblicato nel 2006 e scritto in quegli anni, erano gli anni degli attentati, gli anni durante i quali i palestinesi facevano degli attentati nei ristoranti, nei bar, nei tram. È stato un periodo molto difficile, molto duro nei rapporti fra Israele e i palestinesi. Un periodo di guerra continua, di guerra strisciante, ma neanche tanto strisciante, di reale morti che si accumulavano da tutte e due le parti. La mia storia e la tua storia. In questo libro, Gavron fa parlare due personaggi in modo alternato, capitolo uno e capitolo l'altro. Le due storie che poi nella realtà del romanzo non sono completamente separate, però a me nell'andamento sono totalmente separato. Comincia a parlare uno che è un giovane 33enne israeliano che ha assistito in prima persona a più di un attentato dinamitardo in un ristorante, in un tram e che racconta la sua vita. Quell'altro, invece, c'è la storia di uno palestinese che è in un letto. Allora, questo palestinese ricorda ma è probabilmente in coma. No, non in coma perché non potrebbe pensare, ma non è in grado di parlare, non è in grado di esprimere. Però pensa. Ha delle sensazioni. Perché ha delle sensazioni, perché andrà all'ospedale dove è ricoverato e ha delle canette per l'urina, canette per tutto, quindi è in condizioni molto, molto critiche, molto gravi. Ogni tanto arriva qualcuno che gli fa i massaggi, che lo tiene in vita e evita le piaghe, eccetera. E lui, in qualche modo, sente le parole di chi c'è intorno, però non riesce a parlare e mescola queste sensazioni con i ricordi della sua vita. Lui è un palestinese attivo, diciamo così, all'interno della sua famiglia, nell'intifada e quindi responsabile, in qualche modo, di alcuni degli attentati che sono stati fatti. Non necessariamente i più grandi, ma qualche sparatorio, eccetera. Quindi, diciamo, è un palestinese che sta lottando. racconta la sua storia e quell'altro, l'ebreo, racconta la propria storia. In alcuni momenti, in più di uno momenti, le due vite si sono intrecciate, prima naturalmente nel momento in cui questo palestinese è andato in ospedale e appunto ci sono alcuni intrecci che naturalmente non sto qua a raccontarvi, sennò sarebbe, insomma, non ha senso più reso il libro. Alcuni intrecci che rendono questa storia molto molto bella, cruda, perché non viene risparmiato, però qual è la cosa più interessante? Che riesce l'autore, e non tutti sono in grado di farlo, a entrare in modo molto preciso nelle due mentalità. Diciamo, non è un libro dell'israeliano che racconta anche dell'anobo, ma quando, diciamo, fa parlare l'anobo, riesce a farlo in modo molto molto efficace, riesce a descrivere quello che pensa, quelli che sono i suoi progetti per il futuro, quella che è la sua storia, quella che è la storia della sua famiglia, i suoi amori, le sue speranze, il suo rapporto con la religione, eccetera. Quindi riesce a mettere in luce due diverse mentalità, due diversi modi di essere. Chi mi ha seguito in qualcuno dei miei libri sa già che questi sono i libri che io preferisco, quelli dove si riesce a unire, a mescolare modi di essere, modi di pensare, modi di vivere diversi. E si riesce a, come dire, descriverli, rispettandoli o perlomeno conoscendoli senza mettersi su un piedistallo da una parte o dall'altra. Quindi un bellissimo libro da leggere, sono molte pagine. Se ha un difetto questo libro, non è certo del romanzo, purtroppo questa edizione, io ce l'ho della Mondadori, Strade Blu, e ci sono molti errori di stampa, ma molti, quando uno ne trova una ventina, una trentina in un libro, sono molti. Ah no, insomma, 30 errori di stampa in 400 pagine, sono molti e ti fa perdere un pochettino. Sei lì concentrato, che leggi la storia, segui, ti accorgi perché salta all'occhio. Un errore di stampa, due parole che non vengono staccate, un paio di casi, ho l'impressione che qualche parola sia stata proprio saltata, eccetera. Questo è un difetto di questa edizione, poi, di questa coppia, poi, ma per il resto, insomma, io lo consiglio vivamente. Quindi a Salve Gavron, la mia storia, la tua storia, a Strade Blu, Mondadori, questa edizione che io credo non ce ne siano altro. Benissimo, buona lettura, veramente. Ciao!